è la faccia sofferente appena partiti dal ravasclettone nostro abbiamo dei sci di qualità cazzo in confronto a quei e si punta ad arrivare fin sulla cima del zonco oh yeah guarda faccia la preferente peccate non rubare fin la cima del zonco la nostra eroina che viene su è una bella scarpinata poi c'è un mega barangone che ha distrutto la pista commento a caldo ho un giorno dello cioccolato e anche un giorno dello cioccolato gli ultimi metri dell'ormale atleta per arrivare in cima allo zonco non dov'è la polla che mi acclamo sono io allora un applauso a noi si è spezzata il polso immagino adesso ci attende una bella discesa però perché ti senti Grazie per la visione 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 Grazie per la visione